Musica Non ci sono sorprese alla guida dell'ASL di Bari arriva Vito Montanaro, direttore amministrativo del Policlinico di Bari Dopo mesi di fibrillazione e l'ennesimo rinvio di ieri, oggi la Giunta regionale ha firmato e ufficializzato le nomine dei cinque direttori generali che guideranno le ASL pugliesi I nomi sono quelli che circolano da giù